Il signor Antoine Loilet era già innamorato da una decina di anni della vedova Mathilde Suris, quando poté sposarla. Il signor Suris era stato suo amico, un vecchio compagno di studi. Loilet gli s'era affezionato, ma lo trovava un po' stupido. Diceva spesso, quel povero Suris non è certo un cervellone. Quando Suris sposò la signora Mathilde Gival, Loilet rimase sorpreso e anche un pochino dispiaciuto, dato che aveva una certa inclinazione per lei. Era la figlia di una vicina, una ex merciaia ritiratasi dal commercio con un minuscolo capitale. Era bella, fine, intelligente. Sposò Suris per denaro. Loilet nutriva altre speranze e si mise a corteggiare la moglie dell'amico. Era un bel uomo, tutt'altro che stupido e anche benestante. Era certo che avrebbe avuto successo. Invece fece fiasco. Allora si innamorò perdutamente. A causa dell'intimità che aveva col marito fu un corteggiatore discreto, timido, impacciato. La signora Suris si persuase che non pensava più a lei con intenzioni audaci e diventò una sua sincera amica. Le cose andarono avanti in questo modo per nove anni. Un mattino fu recapitato Loilet tramite un fattorino, un biglietto disperato della povera donna. Suris era morto all'improvviso. Un aneurisma. Loilet fu molto colpito, perché avevano la stessa età. Ma provò quasi subito anche una gioia profonda, un sollievo infinito, un senso di liberazione. La signora Suris era libera. Seppe mostrarsi afflitto quel tanto che era giusto. Attesi il tempo prescritto. Rispettò ogni dettame di buona educazione. Dopo quindici mesi sposò la vedova. La sua decisione fu giudicata naturale. E anche generosa, come uno poteva aspettarsela da un buon amico, da un uomo onesto. Fu finalmente felice. Completamente felice. Vissero nell'intimità più cordiale, poiché si erano capiti e apprezzati sin dall'inizio. Non c'erano segreti tra loro che si confidavano i pensieri più intimi. Lui lè voleva un gran bene alla moglie, in modo tranquillo e fiducioso. L'amava come una compagna affettuosa e fedele, alla pari con lui, una a cui si poteva confidare tutto. Ma nell'intimo gli era rimasto uno strano e inspiegabile rancore contro il defunto suris, che aveva posseduto per primo quella donna, che aveva goduto l'epoca migliore della sua giovinezza e della sua anima, e gliel'aveva persino un poco privata ad ogni alone poetico. Il ricordo del marito morto turbava la felicità del marito vivo. Una zelosia appostuma rodeva giorno e notte il cuore di Loilè. Non faceva che parlare di suris. Voleva sapere mille particolari su lui, anche i più segreti. Voleva conoscere tutto delle sue abitudini e della sua persona. E fin nella tomba lo perseguitava coi suoi sarcasmi, ricordandone, con piaciuto, le manie, i difetti, le manchevolezze. Da una parte all'altra della casa chiamava la moglie. — Matilde, eccomi caro, vieni un momentino. Lei ci andava sorridendo, già certa che avrebbe parlato di suris e secondando l'innocua fissazione del nuovo marito. — Dì, ti ricordi quella volta che suris voleva dimostrarmi che, in amore gli uomini di bassa statura, funzionano meglio di quelli alti? E cominciava a fare osservazioni poco lusinchiere sul defunto, basso di statura, e tutt'altro che spiacevoli per sé, alto. La signora Loilè gli faceva capire che aveva ragione, pienamente ragione, e rideva di cuore, prendendo in giro bonariamente il fu primo marito per la gioia del secondo, che concludeva immancabilmente dicendo — Che testa dura quel suris! Erano felici, davvero felici. Loilè non finiva mai di dimostrare alla moglie, con le manifestazioni usuali, un amore non ancora saziato. Una notte non riuscivano a prendere sonno, turbati tutti e due da un ritorno di gioventù. Loilè stringeva la moglie tra le braccia e la baciava con passione. A un certo punto le domandò — Dimmi una cosa, tesoro mio. — Sì, caro. — Suris. È difficile quello che sto per chiederti. Suris era... — Tanto caldo in amore. Lei gli resse il bacio e gli sussurrò. — Non certo quanto te, gattone mio. Lusingato nel suo amor proprio di maschio, lui proseguì. — Doveva essere... — Un mosciardone, vero? Lei non rispose. Fece soltanto una risatina maliziosa e nascose il volto nel collo del marito. Lui insistette. Doveva essere... — Un mosciardone. — Una piuttosto... — Come dire? — Piuttosto deboluccio. Lei fece una massetta con la testa come per assentire. — Sì, proprio deboluccio. E di notte continuò. — Chissà che noia con lui, vero? — Questa volta in uno slancio di sincerità, lei rispose... — Sì, sì. Loilè la baciò di nuovo per quella risposta e mormorò. — Che animale! — Non dovevi essere felice con lui. Lei rispose... — No, non era una cosa allegra. Loilè gongolava e faceva dentro di sé un confronto tutto a suo vantaggio sulla condizione di sua moglie prima e adesso. Rimase un po' in silenzio. Poi ebbe un sussulto di allegria. — Dimmi una cosa. — Sì. — Ma devi essere sincera. — Veramente sincera. — Certo, caro. — Ecco. — Hai mai avuto la tentazione di... — Mettergli le corna a quell'imbecille di Suris? La signora Loilè emise un oh pieno di stupore e premette con maggior forza il viso contro il petto del marito. Ma lui si accorse che stava sorridendo. — Insistete. Via e dimmelo. Aveva proprio la faccia del cornuto a quell'idiota. Sarebbe bello. Sarebbe proprio bello. Povero Suris. Coraggio, cara. A me puoi dirlo. A me. Specialmente a me. Insisteva su a me. Pensando che seppure lei aveva avuto l'intenzione di tradire Suris, l'avrebbe fatto con lui e fremeva di piacere in attesa della confessione, persuaso che se lei non fosse stata la donna onesta che era, si sarebbe data a lui a quell'epoca. Lei continuava a non rispondere e a sorridere, come al ricordo di qualcosa di molto buffo. Anche Loilè cominciò a sorridere al pensiero che avrebbe potuto far becco Suris. Che bello scherzo. Che presa in giro. Ah, sì, davvero. Uno scherzo coi fiocchi. Sussultando dall'allegria balbettava. Povero Suris. Eh sì, povero Suris. Aveva proprio la faccia del cornuto. Sì, sì. La signora Loilè si stava adesso contorcendo dalle risate sotto le lenzuola. Quasi aveva le lacrime e mandava dei gridolini di piacere. Loilè ripeteva. Su, dimmelo, dimmelo. Sì, sincera. Capisci bene che a me non può dispiacermi. La donna senza fiato mormorò. Sì, sì. Il marito insistette. Sì, cosa? Coraggio. Dimmi tutto. Adesso lei rideva appena appena. Sollevò la bocca fino all'orecchio di Loilè, che si aspettava una confidenza per lui piacevole, e sussurrò. Sì, l'ho tradito. Lui sentì un brivido di ghiaccio correreci fin dentro le ossa, e balbettò sbarrito. Tu, tu l'hai tradito. Sul serio? Lei pensò che il marito continuasse a divertircisi, e rispose. Sì, sul serio. Sul serio. Loilè rimase tanto impressionato che dovette sedersi sul letto, con respiro mozzo, fuori di sé come se avesse appreso d'essere stato tradito lui stesso. Lì per lì rimase zitto, poi, dopo qualche attimo, disse solamente. Ah! Anche lei aveva smesso di ridere, avvedendosi troppo tardi del suo errore. Finalmente il marito domandò. E con chi? Lei rimase in silenzio, cercando una scappatoia. Loilè seguitò. Con chi? Con un giovanotto, rispose la moglie. Colgendosi di scatto verso di lei, Loilè articolò seccamente. Lo spero. Non l'avrai fatto certo con la donna di servizio. Voglio sapere con chi? Con quale giovanotto? Lei non rispose. Loilè prese il lenzuolo con cui la moglie si copriva la testa e lo rovesciò sul letto, mentre ripeteva. Voglio sapere con quale giovanotto. Mi capisci? Mi capisci, sì o no? Lei disse stentatamente. Scherzavo. Ma lui fremette d'ira. Come sarebbe? Scherzavi? Volevi scherzare? Allora volevi prendermi in giro. Ma io non sono il tipo, capisci? Dimmi il nome di quel giovanotto. Lei non dispose. Rimase supina, immobile. Loilè la ferrò per un braccio stringendolo con forza. Insomma, mi capisci, sì o no? Quando ti faccio una domanda, voglio che tu mi risponda. Lei nervosamente ribatté. Mi pare che tu sia diventato pazzo. Lasciami in pace. Il furore faceva tremare il marito. Era tanto adirato che non gli venivano le parole e la scrollava con tutte le forze ripetendo. Capisci? Capisci, sì o no? Per vincolarsi lei fece un gesto inatteso e toccò con la punta delle dita il naso del marito. Il quale si imbestialì, il quale si imbestialì, credendo che l'avesse fatto apposta, e le si slanciò addosso. Le fu sopra e prese a schiaffeggiarla con tutta la sua forza mentre gridava «Ecco, prendi, prendi, l'urida canaglia, sporcacciona!» Quando si sentì senza forza e col fiato grosso, si alzò e andò verso il cassonetto a prepararsi un bicchiere d'acqua zuccherata col fior d'arancio, dato che si sentiva prossimo a svenire. Rannicchiata nel letto, lei si inghozzava forte, rendendoci conto che per colpa sua era finita ogni felicità tra loro. Sussurrò tra le lacrime «Ascolta, Antoine, vieni qui! Ho mentito! Adesso ti spiego tutto! Ascolta!» Pronta a difendersi, ad accampare astute scuse, ella sollevò leggermente la testa sotto la cuffia di sghimbescio. Lui si volse verso di lei. Si vergognava di averla picchiata, ma sentiva vivo, nel fondo del suo cuore, un odio implacabile contro la donna che aveva ingannato quell'altro. Sussurrò, Sussurris.